Deputato all'Asia, il progetto della TAV va avanti, è stato stipulato un importante accordo tra Italia e Francia, di che cosa si tratta? L'accordo internazionale del protocollo fra i due paesi in cui si sanciscono le regole di ingaggio dell'infrastruttura della TAV in Val di Susa e non solo, un accordo importante che deve essere ratificato al più presto per dare un importante segnale che lo Stato e la politica è presente ed attenta al problema della TAV e dei problemi di sicurezza che ci stanno avvenendo in Val di Susa. Infatti la sicurezza in questo momento manca soprattutto a favore degli imprenditori che stanno lavorando in quella zona? Sì, purtroppo lo Stato è latente, per questo ho chiesto che sia accelerato l'iter processuale in commissione e in aula di questo accordo in modo tale che dove sta mancando lo Stato, la politica, i partiti, diano una risposta agli imprenditori e ai cittadini onesti che vogliono tranquillamente vivere sul proprio territorio. Lei ha chiesto anche che Torino si faccia parte civile in un processo contro questi in OTAV? Sì, con i consiglieri comunali Carbonero e Ricca in comune a Torino abbiamo chiesto che il sindaco Fassino e il consiglio comunale aggiunta si faccia parte civile dei danni e dei problemi che stanno creando perché oltre ai danni materiali stanno creando un problema di disordine pubblico ma anche turistico perché la gente normalmente non va dove ci sono i problemi. In Val di Susa si sta creando questo problema perciò chiediamo che il comune e tutti i comuni interessati diventino attori principali e si fronteggino al movimento NOTAV.